buongiorno a tutte e a tutti in questo piccolo spazio paese delle donne su youtube incontriamo oggi losangela presenti losangela presenti è una femminista che da 50 anni è una femminista attivista e ha scritto un libro un libro che si chiama come sono diventata femminista edito da mani nel 20 20 cioè in un anno in cui i libri hanno avuto una particolare storia dovuta alla pandemia però adesso ricominciano a girare comunque la lettura di questi libri sempre molto molto interessante allora chiediamo a losangela presenti com'è che lei è diventata femminista e un'autobiografia no questo libro non è un'autobiografia non è la mia storia la protagonista è una donna più grande di me che comunque è diventata femminista in un piccolo paese della bergamasca simile a quello in cui io vivo e la storia però comincia dentro una casa al mare dove questa donna si è trasferita quasi fuggendo dal suo paese a 70 anni ha deciso di andarsene da questa pianura cementificata e di andarsene ad abitare davanti al mare e il romanzo comincia con una telefonata la telefonata di una pronipote la figlia della figlia della sorella che le chiede di raccontare la sua storia e il rompe nella vita di questa protagonista che invece si era messa a distanza anche da tutta la famiglia sorella fratello nipoti dalle amicizie insomma se n'era andata per scelta e insomma la l'azione è mossa da questa valentina questa nipote pronipote quindi c'era passaggio generazionale e pros generazionale in questo libro la volontà di questo libro qual è il focus e qual è l'attenzione principale che tu hai dato l'attenzione principale è a quella storia straordinaria di gente ordinaria del novecento la protagonista nasce subito dopo la guerra e sottoposta a queste domande pressanti di valentina alle quali evita di rispondere però ripensa a questa questa sua storia questa vita e della storia appunto di gente ordinaria soprattutto delle donne ma anche di quella classe sociale che si chiamava proletariato e oggi diciamo sono i poveri e quindi è una storia di una generazione che quella che ha fatto poi l'italia l'italia della repubblica ma è anche la storia di una consapevolezza e di una donna che si è dichiarata femminista che non era una cosa semplicissima negli anni della sua giovinezza e che ha fatto anche attività politiche che è anche stata delusa dalla politica quindi diciamo che in in sette giorni perché durano tanto le telefonate di valentina che vuole andare a trovare la zia e la zia la tiene a distanza quindi non vi rivelo se poi alla fine valentina riuscirà ad andare dalla zia e se la zia risponderà alle domande in realtà nell'andirivieni di questa donna che fa le sue cose normali cucina va al mare e c'è il ripensamento di tutta una storia una storia culturale una storia politica una storia familiare anche diciamo una storia di piccole cose ma ho prestato un po di cose a questa personaggia ho prestato l'amore per il libri ho prestato la curiosità politica ho prestato un pezzetto di storia politica non tutta perché la mia personaggia se n'è andata se n'è andata delusa io sono una attivista tuttora è una donna più grande di me quindi ho osservato le generazioni di donne uomini più grandi di me ma è anche come una donna che riflette sui molti tradimenti sul suo tradimento anche di una storia politica perché a un certo punto anche le nostre generazioni si sono accomodate dentro lo status quo questa non sono io ad esempio ma è questa protagonista che per certi versi è più intelligente anche di me su certe cose però la sua storia è diversa insomma è una donna che non si è sposata ha avuto delle storie racconta anche queste storie amorose però ha scelto di non di non sposarsi non ha figli ehm ama molto questi nipoti anche eh questi due pronipoti che ha che Valentina e il fratello gemello ma tutto sommato eh preferisce mettere distanza io invece sono una donna che vive di vicinanze e quindi siamo diverse però certamente c'è di me molto di quello che penso insomma soprattutto ehm ho regalato forse una frase che io amo molto a questa protagonista che è ci sono pensieri impensabili per noi che saranno normali per altri corpi noi non possiamo sapere nulla del futuro ecco questo pensiero che ho molto amato ero indecisa se regalarlo alla mia protagonista ma poi glielo ho regalato bisogna essere generose nello scrivere se no anche l'empatia della scrittura viene persa e poi anche i saperi che ognuno ha vengono persi tu hai non sei alla tua prima uscita eh letteraria eh ci puoi dire brevemente che cosa hai già scritto? Ma io ho scritto prevalentemente saggio un primo libro tanti anni fa che si intitolava trasloco che era un esperimento letterario sulla mia autobiografia ero una quarantenne non ancora quarantenne l'ho scritto nell'ottantanove in realtà l'ho pubblicato quasi dieci anni dopo e questo è un libro al quale io sono stata molto affezionata perché appunto era questo esperimento letterario sulla mia eh biografia mh poi ho eh scritto mh un libro su velia sacchi questa una partigiana bergamasca scultrice che mh ha entrata in clandestinità e ha fatto l'unità clandestina con amendola curiella una donna una di quelle tante donne cancellate eh che hanno fatto invece la storia dell'Italia cioè hanno hanno fatto la storia della liberazione dell'Italia dal nazifascismo e poi eh il racconti di case che ehm eh la mia indagine sulla realtà dell'abitare sul nesso fra l'essere abitanti e il territorio abitato attraverso quella ehm quella seconda pelle che sono le quella terza pelle anzi che sono le case cioè le case come come terza pelle come eh elemento mediatore del nostro abitare dentro un ambiente dentro un territorio quindi eh la casa anche come eh eh modello di pensiero come modello di modo di pensare il mondo insomma come paradigma epistemologico del del mondo questi sono cose e poi i saggi insomma mi sembra una produzione molto densa soprattutto una produzione che non scade cioè una produzione le tematiche possono essere ancora oggi molto attuali e questo non soltanto per alcuni accettamenti culturali che ci connotano ma soprattutto perché sono il cresciuto della società odierna e di quella futura per esempio questa riflessione sulle case in questo momento c'è una più ampia riflessione anche femminista sulla vitale sulla costruzione delle città sulle relazioni degli spazi e quindi mi sembra che anche quest'opera che tu hai citato possa essere più che eh doverosamente eh riletta e riportata perciò io ti inviterò senz'altro a un'altra piccola riflessione su queste quest'ultima opera di cui abbiamo parlato intanto ti ringrazio questo nostro eh piccolo spazio e e si chiude e noi diamo l'appuntamento a tutte e tutte quelle che vogliono seguirci alla prossima eh visione di un libro attraverso la sua ufficio e naturalmente ringraziamo tantissimo Rosangela Pisetti. Grazie a te. Grazie. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a tutti.